e allora buongiorno buongiorno ragazzi e benvenuti iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti di qualsiasi squadra ma immagino anche della roma che seguiremo il decorso in questi giorni dopo questa finale guardatevi video fatti specialmente quello di ieri sera nel quale vi ho detto la mia sul futuro di murigno dopo le parole di ieri aggiornatemi anche nei commenti se adesso dovessero esserci delle novità nell'immediato della partita civiglia roma decisa i rigori la roma perde la coppa e la situazione si mette anche un po così modo discutibile usiamo questo termine per quel che riguarda la stagione per quel che riguarda la posizione in campionato che non ti consente di raggiungere quello che credo io ma crediamo tutti fosse l'obiettivo cioè la champions league adesso la roma bisogna vedere l'ultima giornata cosa cosa andrà a fare una partita infinita perché io veramente se penso a quando di bala è entrato in campo assegnato mi sembra vent'anni fa partita infinita però non posso dire che che il risultato sia sbagliato vero che anche il civiglia per carità ho apprezzato i movimenti di palla più rapidi ho apprezzato gli scambi la tecnica si vede che è una squadra più ad usa a giocare a calcio che sarà un concetto che tornerà molto in questo video però non è che abbia avuto stammole di occasioni neanche il civiglia va detto è di sicuro si è fatta preferire un po per il possesso palla per la velocità di certo possesso palla la maggiore esperienza che si vedeva è la roma diciamo che ha trovato non solo una squadra ma un gruppo di persone mettiamo così che usando il latino ha fatto un po di redderazione perché quante volte abbiamo visto la roma in campionato sporcare la partita e perdite di tempo musi duri è il civiglia è una squadra bella rognosetta da sto punto di vista qua ma ripeto se questo è un po la summa no del del ciclo biennale che è arrivato a questa finale qua io io in questi due anni qua e ve l'ho sempre detto avrei preferito anche a chi mi diceva cose criticava ma io ho sempre detto che avrei preferito un progetto roma diverso ci sono anche due realtà che ci vengono in soccorso quella del napoli no allenatore esperto allenatore di gioco e scouting ma soprattutto giocare a calcio anche la lazio stessa allenatore esperto mercato non certo scintillante giocando a calcio ha raggiunto un obiettivo la roma quest'anno ha tentato questo all in qui molto rischioso molto rischioso perché poi quando ti appigli alle partite alle serate ai fluidi a quelle cose di caressa che si inventa il buscido ma lasciamo stare per piacere che poi questi sono quelli che spesso ci dicono che il calcio è una cosa molto semplice per giustificare magari il giocare messi dietro il giocare a difendere 45 partite su 50 allora volete che ve lo semplifico ancora di più io il discorso lo semplifico senza problemi il calcio si fa giocando a calcio più semplice di così non si va da nessuna parte l'ha fatto la roma quest'anno l'ha fatto si può dire che l'ha fatto e paradossalmente attenzione lo diciamo stasera che la roma per 20 minuti ha fatto una partita buona fin tanto che è stato in campo di bala ha fatto anche poi non è che si è chiusa nelle barricate ma anche perché il siviglia non è che ha avuto sta sta mole di gioco offensivo così e via dicendo non ha avuto il siviglia ha fatto possesso palla controllo gestione poi nella roma sono anche mancati certi certi giocatori stasera è sono mancati certi giocatori perché di bala siamo onesti è vero che fa un gol importante ma lì è anche buonù che un po sbaglia ha fatto un'uscita alla terracciano però al di là del gol anche di bala quantomeno si vedeva che era un po fuori fase no anche sta cosa madonna se per star lì di bala gioca non gioca i giochetti di murigno è la comunicazione quando ci hanno rotto i coglioni con la comunicazione non gioca giocano io vi dico la verità se di bala era questo potevi anche pensare di metterlo al secondo tempo per esempio ma al di là di questo matic stasera non mi è piaciuto per niente matic sarà stanco per l'età anche quello quando compri un po magari i giocatori così puoi aspettarlo non mi è piaciuto e il sharawi l'avrei messo prima a conti fatti anche zaleschi potevi metterlo prima abram stasera ha sbagliato quasi ogni palla che gli è arrivata belotti non ha inciso e il sharawi nonostante potessi metterlo prima non ha inciso tanto neanche lui della roma chi è che posso andare a premiare posso andare a premiare zaleschi per quel che ha giocato posso premiare i due eccettuato mancini vado a premiare i centrali di difesa perché sia smalling che anche i bagni secondo me hanno fatto una partita importante di sacrificio così valevole spinazzola un altro che ha sbagliato quasi tutto lo sbagliabile selic impalpabile tanti giocatori che hanno hanno sbagliato però se uno vede per esempio la velocità di gioco la velocità di passaggio palla l'esperienza in questa partita e anche la mole di gioco io credo che la vittoria del siviglia possa essere meritata io vi dico la verità adesso non so che cosa farà murigno ma ve l'ho spiegato anch'io ieri è un'annata un po ripeto in molti in molti al tempo mi avevano criticato perché avevo cercato di difendere il buon Paolo Fonseca scusatemi ma facciamo il confronto tra questa annata qua e l'ultima di Fonseca cosa è cambiato? probabilmente è cambiato solo che al sorteggio hai preso il Manchester United con Fonseca e qui hai preso il Bayer Leverkusen cioè questo è cambiato con giocatori più importanti presi con stipendi più importanti pagati in primis quello del tecnico e il risultato è questo e non mi sento neanche di dire ripeto perché non è una partita nella quale dico la Roma ha perso immeritatamente per le decisioni arbitrali ti hanno anche tolto un rigore sul quale Ibanez ha rischiato altre cose non mi sembra ci fossero quello del braccio lo stava comunque sono cose che si possono dare o non dare però la stagione della Roma per me non passa dalle scelte di stasera e vi dico anche la verità è un errore è stato un errore per me è sempre un errore fare calcio incentrando un percorso sul momento e su quello che può succedere sulle energie su questo su quello e il sorteggio ma tu devi pensare a fare gioco ad avere la tua identità di gioco propositiva a valorizzare il parco giocatori che hai attraverso una manovra di gioco fluida efficace e non mi sembra che la Roma l'abbia fatto ripeto non mi sembra che la Roma l'abbia fatto e mi spiace perché di solito è anche una realtà che un po' come la Fiorentina come il Napoli ha sempre puntato su questo tipo di di emersione e non può andarti sempre bene quando quando punti su altre cose onestamente poi venendo al Siviglia ripeto non mi è neanche entusiasmato è un'altra squadra che non è che però ha più tecnica più pelo sullo stomaco più esperienza sette finali vinte c'è anche dei bei giocatori perché per esempio a me è piaciuto moltissimo Campos oggi è che a noi servono esterni scarsi se no l'avrei preso anche Gudelf intanto che è stato in campo grande lideristica Rakitic che per me ha vinto assolutamente il confronto con Matic ma un po' tutto il centrocampo del Siviglia ha vinto contro quello della Roma infatti una pecca della Roma è stata anche quella di non cercare i cross di fare pochi cross, poco cross in game della Roma, sbagliato ne ha fatto forse troppo il Siviglia, troppo poco la Roma specie per le caratteristiche a confronto dei due attacchi adesso vedremo quel che succederà io credo che... non so se Mourinho lascerà perché anche lì non si sa mai magari era un'uscita fatta per concentrare sulla Coppa mi dispiace anche perché è sempre una squadra italiana italiana e tutto come personaggio mi ha anche cresciuto calcisticamente quindi non è che ho odio, mal sopportazione così però io il calcio specie oggi sapete, seguirei sempre un'altra direttrice andatevi a vedere il video di Eris devo dirvi se, se, se si deciderà di cambiare allenatore o se Mourinho vorrà andar via il mio nome è quello di De Zerbi i motivi ve li ho spiegati ieri ciao ragazzi